Oggi ricevo tantissime dimostrazioni di affetto ma anche di ricordo piacevole rispetto al suo ottimismo e rispetto al suo dare forza agli altri. Era questa la grande forza di mio figlio. È quella che sta dando anche a me in questo momento perché credo che nessuna madre dopo pochissimi mesi di forza del proprio figlio abbia la forza propria di poter organizzare queste cose. Io sento che lui me la sta dando. Le lacrime di dolore dopo la perdita tragica ed improvvisa di Danilo, mamma Elena le ha versate tutte. Ora quelle stesse lacrime si devono tradurre in forza, in speranza e in azione. Nasce proprio dalla forza del ricordo l'iniziativa presentata questa mattina che servirà a tenere vivo il ricordo di questo ragazzo poliedrico ed amante delle arti che si è spento a soli 21 anni. La famiglia di Danilo ha creato una onlus che servirà ad accogliere fondi per finanzare gli studi e le passioni dei giovani avellinesi, un modo per continuare il percorso intrapreso da Danilo. Il nostro scopo è quello di aiutare i giovani e perché no? Aiutarli a farli restare perché andare via dalla propria città, andare via dal proprio contesto significa allontanarsi soprattutto dagli affetti. E gli affetti danno forza e non sempre possono funzionare a distanza. A luglio ci sarà una grande festa in memoria di Danilo ma che servirà anche a dare voce a tanti artisti locali che non hanno occasione per esibirsi. Però noi stiamo organizzando un mega party, un mega festival per dare proprio la possibilità a tutti i giovani esordienti di divertirsi e di essere per una volta al centro dell'attenzione esibendosi su un palco, io dico meraviglioso perché non se ne è visti mai qui in città. La data è il 28 luglio, il luogo è il Campo Genova, detto anche Smile Arena.